L'assessore al bilancio del Comune di Agropoli, Roberto Mutalipassi, in diretta su Cilento Channel, ha parlato di una possibile agevolazione sui costi di affitto attuato dalla Regione Campania e che per il quale si può presentare domanda tramite l'ente comunale agropolese. Aspettando il decreto di aprile per capire cosa sarà fatto dal Governo sulla questione, la Regione Campania è scesa in campo per gli affitti abitativi, dichiara Mutalipassi, che parla di un'agevolazione che prevede un contributo pari al 50% del canone per tre mensilità per un massimo di 750 euro in favore delle famiglie colpite dall'emergenza. Per questo bando, come Comune di Agropoli, abbiamo stabilito il 7 maggio come scadenza ed è riservato esclusivamente alle famiglie in cui sono presenti imprenditori che hanno avuto una riduzione del fatturato del 50% nei mesi di marzo e aprile, rapportati ai mesi di gennaio e febbraio oppure alle famiglie in cui è presente un lavoratore con una riduzione del reddito di almeno il 20% nello stesso periodo. Infine, l'assessore ha dichiarato che per fare richiesta di questo sostegno sul fitto il reddito dovrà essere inferiore ai 35.000 euro. Il bando è scaricabile dal sito del Comune di Agropoli e i moduli possono essere reperiti anche ai cartacei presso la Casa Comunale.